A Minto Refanfani, 78 anni, a retino di Pieve Santo Stefano, sposato con Biancarosa Provasoli, la madre dei suoi sette figli, sette anni dopo la sua morte si è risposato con Maria Pia Talazzani, Presidente del Senato della Repubblica per la quarta volta, ordinario di storia economica alla Cattolica di Milano dal 1936, ha chiuso la sua carriera universitaria nel 1983 all'Università di Roma, dottore onori scausa altre 12 volte da Pisa a Tokyo, da Mogadiscio a Coimbra, da San Francisco a New York, da Mexico City a Bucharest, internato militare in Svizzera nel 43-44, insegna ai rifugiati italiani, torna nel 45 ed è subito politica, allora c'erano Churchill, Stalin, Adenauer, Truman, loro sono passati, lui è ancora qui, una carriera politica come nessun altro, segnata da grandi vittorie e grandi sconfitte, qualcuno ha detto, 5 volte nella polvere, 5 volte sugli altari, gran lavoratore, instancabile, o raffabile o rabrusco, non cerco di carattere amabile né ci tiene ad esserlo, dalle sfuriate ai sorrisi in 5 minuti, inavvicinabile e taciturno secondo qualcuno, amichevole e stralipante secondo altri, pochi lo amano, quasi tutti lo temano, dentro e fuori la DC, erano lui e Moro i cavalli di razza della democrazia cristiana, adesso è rimasto solo lui, amante della buona cucina e buon cuoco con lui stesso, divoratore di libri e scrittore, ne ha scritte decine di economia, di politica, di religione, di pittura, di studi sociali e di ripensamento morale, il suo linguaggio è inconfondibile, è chiaro quando vuole, allusivo o ampolloso, secondo i contesti. Presidente, l'ho appena detto, si dice che lei parla in modo chiaro e schietto in privato, mentre in pubblico usa perifrasi e allusioni, è disposto in questa intervista a smentire tutti? Cercherò. Senta, allora proviamo subito, da tre anni le chiedo questa intervista, da tre anni mi dice di no, adesso è accettato, perché? Eh, prima di tutto per levarle l'incomodo di richiedermela, e in secondo luogo perché mi pare il momento in cui uno scambio di vedute tra lei e me può essere di qualche giovamento. Ecco, e non è perché la corsa alla presidenza della Repubblica prima era meglio farla in silenzio? Ma io per la verità non ho fatto nessuna corsa, ogni tanto mi hanno buttato fuori, con la storia del rieccolo l'hanno inventata loro. Ecco, comunque lei quattro volte è già stato buttato fuori, nel senso che ha partecipato alla corsa alla presidenza della Repubblica, e quattro volte è stato sconfitto, le pesa molto? Molte volte, anzi tutte quattro volte, non sono arrivato alla sconfitta. Mi sono ritirato prima quando ho constatato che la mia presenza poteva turbare la convergenza necessaria tra i partiti e anche lo spirito degli altri concorrenti. Senta, ma del potere cosa le piace di più? La possibilità di fare qualche cosa di utile al mio paese. E di meno? Di meno i pesi, le noie e le chiacchiere sul potere. Senta, Presidente, lei per le sue molte ressurrezioni, l'ha già accennato anche lei, dopo le molte sconfitte, è stato soprannominato da Montanelli proprio rieccolo. Lo considera un complimento o un insulto? Può essere un complimento se rivela la ricerca di riportarmi fuori a utilizzare il tempo libero per qualche buona cosa. E altrimenti può apparire una specie di offesa, non per me che non la sento, nel direzione ma questo è sempre tra i piedi. Senta, ma a proposito, qual è la sconfitta politica che ha subito e che le brucia di più? Più che bruciare, di tanto in tanto qualcuna mi è restata più impressa. Per esempio? Per esempio. Non è facile dirlo, non è facile dirlo. Perché sono tante fra cui scegliere? Sono diverse tra cui scegliere e in questo momento, siccome le dico, per mio carattere non le tengo a memoria, non mi è facile scegliere. Senta, comunque, complimento o insulto che sia, lei oggi è di nuovo rieccolo, ma non con un gesto politico, ma con un libro, Il Greco e Teresa Davila, che con la politica non c'entra. È il segno di un suo definitivo distacco dalla politica? No, sempre durante la mia vita politica, quando è venuta la cessazione del rieccolo, ma è sopravvenuto il riandato, ho cercato di dedicarmi di nuovo a quello che è il fondo della mia carriera, gli studi. Ecco, ma perché è un libro non politico? Un libro non politico perché così mi distacca dalla politica e mi dà quella sufficiente possibilità di riflettere senza particolari contingenti trambusti. Senta, ma in politica è indispensabile, secondo lei, avere un secondo lavoro per essere liberi? Cioè avere un primo lavoro, anzi? Io ritengo, la mia esperienza dice, che arrivare in politica dopo avere una propria posizione professionale è un grande vantaggio, è una garanzia di libertà. Ecco, ma chi non ce l'ha allora è meglio che non faccia politica? Io consiglio a tutti, spesso ai giovani che ogni tanto vengono e dicono, sai io vorrei fare politica, prima studio o prima impara un lavoro e conservati, creati e conservati una tua personalità e possibilità di vivere in modo da non aver bisogno delle briciole della politica. Sì, ma sono briciole quelle della politica? Per le persone oneste forse non arrivo nemmeno a essere briciole, per le altre persone sarebbe meglio che non avessero fatto i policipe, così senza tanti inconvenienti forse raccoglievano pagnotte intere. Senta Presidente, torniamo al libro, secondo il nuncio apostolico a Madrid di quell'epoca, Teresa d'Avila era, lo leggo testualmente, una femmina inquieta e vagabonda che va seminando la confusione nei conventi. Ecco perché una grande passione per una donna così da parte sua? Perché fui forzato in un certo senso dal sindaco di Avila a andare a fare una celebrazione nel quarto centenario della morte di Teresa d'Avila di questa sua concittadina e dovetti studiare e studiare soprattutto leggendo le opere diverse, parecchie opere, compreso poesie, che Teresa ha scritto e restai abbagliato dalla grandissima personalità di questa donna. Ho approfondito gli studi e è nato anche questo in relazione al greco. Ecco ma appunto che tipo di influenza ebbe secondo lei Teresa sulla pittura di El Greco? La misticizzò, se posso usare questa brutta parola, nel senso che si incontra poi a un certo punto una specie di convergenza tra gli ideali, anche artistici, di Teresa d'Avila e la nuova via in cui il greco dopo il suo arrivo a Toledo, 1577, intraprese. Ecco ma si conobbero? Non abbiamo documenti che provino che si conobbero. L'attento studio che ho fatto porta a concludere che la cosa più difficile a spiegare è come fecero a convergere così senza conoscersi. Senta, a proposito di influenze fra persone che invece si conoscono, parliamo di politica estera. Molti dicono che oggi la politica estera del ministro degli esteri Andreotti, Medio Oriente, è figlia della linea Lapira-Fanfani. È vero? La riconosce? Prima di tutto lo domandi all'onorevole Andreotti per sapere se gli fa piacere avere questi progenitori in questo particolare punto della sua attività politica. In secondo luogo la posizione che con Lapira prendebbo a proposito della pace nel Mediterraneo e quindi nei confronti della comprensione per certi problemi politici e disagi economici degli arabi fu presa in un'epoca del tutto differente. Certo io posso ancora vantarvi e mi vanto anche il nome di politica di quei successi che abbiamo ottenuto per evitare anticipi di guerra nel Mediterraneo. 1956 le flotte anglo-francesi davanti a Suez e ad Alessandria non arrivarono a scatenare la guerra. Avevo a lungo trattato l'argomento con Eisenhower e per la verità tenne fede a quello che avevo capito. Ecco ma lei allora comunque per essere chiaro di portarci a oggi è con Andreotti contro Spadolini sul piano della politica estera o no? Ci sono due politiche estere? No mi fa dispiacere e credo che non giovi alla credibilità delle posizioni del governo italiano che in questo problema o in altri problemi quindi non soltanto riguarda Spadolini o Andreotti i ministri di uno stesso governo pubblicamente cerchino di sottolineare o finiscano per sottolineare divergenze su punti essenziali di fronte ai quali un governo deve essere unito. Senta ma questo comunque è un punto fondamentale della politica estera? Essenziale. Senta ma sul raid americano, su Tripoli e Benghazi lei cosa pensa? Che giudizio dà? Le dirò subito che mi provocarono i giornalisti sovietici che vennero la settimana scorsa a visitarmi, mi indussero a precisare, a rispondere in anticipo alla sua domanda e mi dissero lei che ha provato dopo questo raid? Ho detto il disagio che provai quando voi sovietici invadeste la Faganistan. Senta ma di Reagan e della sua politica di ritorsione però cosa pensa? E' quello che spontaneamente viene di ripensare di ciascuno che di fronte a una situazione di grande rischio e di disagio reagisce in qualche modo. Quando si è in compagnia, certo fa meglio uno a intendersi con i suoi compagni di cordata. Questo non è capitato però? Questo non lo so perché io non ho avuto nessun contatto né diretto né indiretto con i protagonisti di questa vicenda. Senta ma di Gorbaciov cosa pensa? Mi domandarono quelli mi pare dell'unità quando ha comparì Gorbaciov. Cosa lei pensa di Gorbaciov? Dico gli avvimi sembrano interessanti. Naturalmente c'è un proverbio italiano che dice se sono rose fioriranno. Non mi resta che fare l'agurio che fioriscano. Ma le sembra che stiano fiorendo? Probabilmente la situazione bisognerà che faccia qualche altra innaffiatina sulla Iola per avere un miglior risultato. Senta ma sulle lotte al terrorismo internazionale pensa che ci possa essere un punto di contatto, un punto d'accordo fra Reagan e Gorbaciov? Il problema del terrorismo internazionale inserito nel tentativo di contatti costruttivi tra l'Unione sovietica e gli Stati Uniti d'America si presenta in un particolare modo, cioè come, persistendo, un insieme di fatti capaci di rendere molto più difficile l'intesa tra le due grandi aree, quella di predominanza statunitense e quella di predominanza sovietica. E sotto questo profilo ritengo che ridurre il terrorismo e meglio ancora farlo sparire che agevola l'ulteriore sviluppo delle conversazioni di Ginevra e quindi facilita l'intesa di pace. Ecco, ma c'è un grande vecchio del terrorismo secondo lei? Io non lo so se c'è un grande vecchio. Certo ci sono punti di convergenza spontanei, forse anche non armonizzati né provocati, di tutti i terrorismi in un obiettivo finale, la somma del quale reca la destabilizzazione prima di ciascun paese e poi di vaste aree mondiali. Senta, ma secondo lei si può separare il problema del terrorismo arabo nel Mediterraneo dal problema palestinese? In due parole. Ecco la pira di nuovo e se le consente io, suo collega e amico. Da tanto tempo immaginavamo, già negli anni 50, che fosse necessario ridurre gli attriti nella Palestina, nella Giordania, nell'Asia Mediterranea, Asia Minore Mediterranea, proprio per evitare che per una serie di reazioni quella insoluta questione fosse causa di guerra. Quindi senza risolvere il problema palestinese, niente speranza di abolire il terrorismo arabo. Io non arrivo a questa conclusione drastica. Dico che eliminando gli attriti e componendo le controversie gravi che esistono tra i paesi dell'Asia Minore Mediterranea, si potrebbe, senza ridurre questi contrasti, sarà molto difficile eliminare il terrorismo. E' certo difficile conseguire la pace nel Mediterraneo. Senta, nei giorni scorsi l'onorevole Natta ha chiesto un riesame delle regole dell'adesione dell'Italia alla Natto. Ecco, pensa anche lei che questo problema esista o no? Mi viene il primo dubbio. Mi viene che si trovi un po' scomodo sotto quello che mi pare Berlinguer prima di lui, considerò finalmente un ombrello di pace, dando ragione a De Gasperi che come tale lo aveva immaginato. Sento, ma a proposito di Natta e del PC, lei è stato, credo, per la prima volta presente al congresso di quel partito. Perché è andato? Lo dichiarai quando mi domandarono le poche cose che dissi ai giornalisti in quella seduta. E dissi, in questa situazione internazionale, nelle svolte a cui sono sottoposti le due grandi aree del mondo, in questa evoluzione che i partiti delle due aree compiono, il seguire attentamente l'evoluzione che tutti auspicavano e che si intravede, non direi tanto ideologica, ma strumentale all'interno del partito comunista, è cosa buona. Per questo un presidente di assemblea fa bene andare ad ascoltare, non voglio parlare, voglio ascoltare. Senta, ma secondo lei questa evoluzione del PC a che punto è? Questo bisogna domandarlo a quelli del PC per vedere a che punto si trovano del cammino che dicono e fanno constatare di aver preso. Ecco, ma il fatto per esempio che Cossutta sia stato escluso dalla direzione, significa che il distacco da Mosca è un fatto compiuto? Questa sua domanda porta a domandarsi, ma Cossutta è forse nell'elenco dei diplomatici che bisogna escludere da un determinato paese o da una determinata combinazione politica? Senta, ma di nata personalmente come uomo cosa pensa? Non lo conosco molto bene personalmente, ho conversato qualche volta e la prima impressione è l'impressione di persona colta, di persona attenta e di persona che non ha voglia di crearsi spazi di potenza, ma di contribuire veramente a una soluzione migliore del dialogo, credo all'interno del suo partito, si è visto, ma anche all'interno dell'insieme dei partiti italiani. Senta, e Craxi come lo definirebbe come uomo? Come uomo? È un uomo che a me è sempre interessato moltissimo, fin dal congresso di Torino. Perché? Credo sia stato uno dei primi che dopo il congresso di Torino a lungo ha parlato con Craxi e abbiamo parlato perfino dei fatti che adesso si svolgono. Lo considero, dopo l'esperienza, un uomo di una capacità eccezionale ogni mattina a presagire quale sarà il punto di incidenza di una sua eventuale dichiarazione durante la giornata. È come uomo di governo? Una gran fortuna, direi che ha qualche gobba più degli altri. Sempre a proposito dei socialisti, lei di recente ha detto di sperare che i socialisti non la facciano pentire di aver speso gran parte della sua vita politica per portarli al governo. Perché lo dice? Lo dico perché quando ritornai, dopo due anni, come ministro degli estri, avendo lasciato la presidenza del Consiglio nel 63, nel 65, come ministro degli estri nel governo Moro, entrai in Consiglio dei Ministri e vedi il primo atteggiamento in quella discussione dei socialisti, salvo che per Danny mi venne questo dubbio. Ma sono stati 70 anni al governo e sono a questo punto. Senta, ma ha qualche segnale per cui pensa di dover si pentire o no? Io segnali, se fosse di natura personale, dovrei dire che aveva ragione quel socialista romagnolo che dopo che io avevo fatto di tutto per avviare l'apertura di centro-sinistra, mi scrisse, stia attento che i miei compagni di partito sono ingrati. Qualche volta i fatti gli hanno dato ragione. Ma non gli ho dato peso alla cosa perché ritengo che in politica coloro che sperano nella gratitudine sono degli illusi. Senta, ma il problema dell'alternanza al governo, lei come lo vede? Da un punto di vista di uno studioso di dottrine politiche e relativo quindi alla democrazia, credo che sia malposta. È un'invenzione fasulla e che può essere pericolosa. Perché è pericolosa? Perché supponga il caso che coloro che hanno detto che gli va bene l'alternanza non fossero più di maggioranza relativa e voglio vedere se si trovassero di fronte agli altri che l'alternanza non la vogliono più, cosa fanno. Senta, ma qual è il suo peggior difetto, Presidente? Così proprio non me lo so un po', anche se per un buon cristiano che fa un esame di coscienza, se può ogni giorno e ogni tanto si confessa, il problema si pone. La mia mamma mi diceva che non aveva, di origine calabrese la mia mamma, non riusciva a capire come mai non approfittavo di tante circostanze per dare una lezione a coloro che mi avevano, secondo lei, ingiustamente contrastato e lo considerava un grave difetto. E lei lo considera un difetto questo? Forse in politica? No, lo considero una derivazione della fede religiosa che ho e in secondo luogo una precauzione per non avvelenarsi la vita. Insomma, ma un difetto difetto non me lo dice? L'impazienza talora di passare all'azione è come talvolta mi è capitato, diverse volte, il piano case, il centro-sinistra, di arrivare con qualche mese o con qualche anno di anticipo. E anche questo è un difetto? In politica è un grosso difetto che non constatai in De Gasperi. Ho constatato in De Gasperi l'attenzione con la quale cercava, pur nel realizzare le sue convinzioni, di non distaccarsi troppo da coloro che avrebbero dovuto seguirlo. Senta, e c'è una cosa che non vorrebbe mai sentire dire di se stesso? Che non sono simpatico. Perché? Perché io credo di esserlo e spesso lo devo constatare, salvo quei musoni della politica, conversando di trovare in definitiva che ci avviciniamo per la reciproca simpatia. Senta, lei parla spesso della ripercussione che la terza rivoluzione industriale avrà sulla vita dell'uomo. Ecco, in una battuta, che caratteristiche avrà, secondo lei, intanto questa terza rivoluzione? Brevemente. Sono quasi dieci anni che studio questo argomento e sono arrivato da alcuni anni a questa convinzione. La terza rivoluzione industriale è in primo luogo un fatto che apre la strada di grandissimi progressi. La velocità accelerata con la quale si trasporranno tante situazioni economiche o strutturali. In secondo luogo la spinta a un mutamento profondo delle strutture organizzative, anche in campo economico. È un riflesso notevole, se ne sappiamo approfittare, per accrescere la consapevolezza e la libertà dell'uomo. Ecco, ma nelle democrazie, per esempio, nostre, parlamentari occidentali, crescerà la libertà del singolo o il potere sarà sempre più concentrato in poche mani? Questo è un problema che si pongono molti. È il problema che si pose anche Orwell, ricorda nel romanzo 1984. C'è il rischio che la libertà del singolo venga a essere mortificata, benché le strutture delle innovazioni specie informatiche, accrescendo l'informazione del singolo, migliorando la sua consapevolezza, lo mettono in condizione di essere un aspirante sincero alla libertà. È un lottatore per ottenerla. E quindi più democrazia diretta, in qualche modo? Maggiore partecipazione, d'onde però una necessità che i politici, convinti che la strada della libertà è la strada principale della vita dell'uomo e della politica, prendano tutte le opportune cautele per prevenire l'arrivo del tiranno, che smentendo Nelly non avrebbe bisogno di una stanza di bottoni, basterebbe un bottone. Senta, ma di fronte appunto a questa domanda di cambiamento e questa realtà di cambiamento di cui parla, secondo lei i partiti saranno ancora in grado di essere lo strumento di collegamento tra domanda sociale e risposta politica? Uno degli effetti, mi domandava quali effetti della terza rivoluzione industriale, uno degli effetti, una delle ripercussioni sociali è già questa, di mettere in risalto i difetti di tipo conservatorio, di strumenti, dei partiti, e con tutta libertà posso ripetere, perché l'ho detto più volte e l'ho scritto, dei sindacati. Scusi, dall'evoluzione della società, sia gli uni che gli altri, e altre compagini sociali, si sono lasciati distaccare dalla loro base, per i sindacati, dei lavoratori, per i partiti, dei cittadini. Ecco, però i partiti distaccati dai loro cittadini occupano il potere, sempre di più, non le sembra che criticare questa partitocrazia sia doveroso? Questo strapotere della partitocrazia. Lo fanno già i cittadini, quando dicono, ma è diminuita la simpatia dei cittadini per la politica, sbagliano, è diminuita la simpatia dei cittadini per i partiti. Donde ne viene una spinta, signori dei partiti, o vi cambiate, o migliorate, o vi adeguate alla cresciuta consapevolezza dei cittadini, oppure i cittadini vi fanno fuori, con il rischio di trovarsi in mano a qualche imbroglione. E per evitare questo bisogna che voi riformiate i partiti e create delle strutture. Parlando della riforma dei partiti, questo problema del rapporto fra partiti e società civile, nell'affrontare questo problema l'ADC sembra zero. Se è vero, come è vero che De Mita a Napoli ha detto giorni scorsi, che l'ADC non ha una classe dirigente e solo pochi pensano. Lei è d'accordo su questa analisi? È molto imprudente l'onorevole De Mita a dire queste cose. Prima di tutto perché non volendo fa una critica molto acerba di 40 anni di vita del partito al quale appartiene. In secondo luogo perché mette in dubbio che in questi tre anni e mezzo che lui ha governato il partito non abbia fatto qualche progresso. Invece li ha fatti. Ecco, ma parlare di rinnovamento dell'ADC, se la situazione comunque è questa descritta da De Mita, cosa vuol dire? Vuol dire in primo luogo, le ho detto prima, accrescere anche in seno all'ADC i contatti tra la base, tra i cittadini, tra il popolo, come si dice, e la dirigenza del partito. Ecco, ma lei vede altri cavalli di razza all'orizzonte dell'ADC? Quando Dona Catena inventò questa edizione dei cavalli di razza, l'ho detto a un congresso nel 73, quando mi rilessero al segretario politico, ho detto, ma non vorrei che girando intorno alle stalle venissero fuori troppi somari. Senta, ma De Mita con lei come lo definirebbe? Ma se ricordo quello che disse, mi pare, in un mixer con lei, Agnelli verrebbe la tentazione di spiegare meglio la cosa, di dirlo un buon meridionale cultore di politica, non voglio dire avellinese, ma devo dire un uomo che ebbe dalla natura una grande vocazione, quello dell'insegnante. Naturalmente ora deve accoppiare le qualità naturali con quelle necessarie a un dirigente politico. Ma è un cavallo di razza o no? Io l'ho già detto cosa penso sui quadrupedi. Senta Di Andreotti? Ma Di Andreotti hanno detto tante storie, che è un nemico mortale mio, io ho un nemico mortale suo, e devo ricordare che la prima volta che Andreotti fu fatto ministro fu dal signor Fanfani nel governo del 54. Questo per il passato, per il presente? E gli faccio tanti auguri di andare avanti, anche perché, dicono i maligli in giro, ha molte qualità per essere un successore di De Mita. Ecco, a proposito dei successori di De Mita, c'è chi dice che dopo De Mita il segretario dell'ADC invece sarà Formigoni. È una battuta o è possibile? Oddio, con questa faccenda degli animali che ha tirato fuori, e ora ha tirato fuori tra i cavalli anche i Formigoni, mi sembra una cosa un poco, molto zootecnica, ma poco politica. E dentro di me dico che il Formigoni, sotto certi aspetti, con i suoi amici di comunione e liberazione, lo disse già in un raduno di Rimini, suscitando qualche ritrosia di antichi miei amici, e tutt'ora amici, ripete un tentativo che Dossetti e gli altri che con lui si ritrovarono, cioè lei la dirà, certo? Io stesso, fece di garantire che un partito laico e democratico e popolare, nazionale, come la democrazia cristiana, avesse sempre viva la sorgiva di ispirazione cristiana. Ma insomma è di razza o no Formigoni? È di che razza? Se si riferisce sempre alla cosa animalesca, io sono contrario a insistere. Da un punto di vista di uomo capace e la dirigenza del partito. Ecco, ma lei vede altri cavalli di razza all'orizzonte della DC? Quando Donna Catena inventò questa edizione dei cavalli di razza, l'ho detto a un congresso nel 73, quando mi rilessero segretario politico, ho detto ma non vorrei che girando intorno alle stalle venissero fuori troppi somari. Senta, ma De Mita con lei come lo definirebbe? Ma se ricordo quello che disse, mi pare, in un mixer con lei, Agnelli verrebbe la tentazione di spiegare meglio la cosa, di dirlo un buon regionale cultore di politica, non voglio dire avellinese, ma devo dire un uomo che ebbe dalla natura una grande vocazione, quello dell'insegnante. Naturalmente ora deve accoppiare le qualità naturali con quelle necessarie a un dirigente politico. Ma è un cavallo di razza o no? Io l'ho già detto cosa penso sui quadrupedi. Senta Di Andreotti? Ma di Andreotti hanno detto tante storie che è un nemico mortale mio o io un nemico mortale suo e devo ricordare che la prima volta che Andreotti fu fatto ministro fu dal signor Fanfani nel governo del 54. Questo per il passato, per il presente? E gli faccio tanti auguri di andare avanti anche perché dicono i maligli in giro ha molte qualità per essere un successore di De Mita. Ecco, a proposito dei successori di De Mita, c'è chi dice che dopo De Mita il segretario dell'ADC invece sarà Formigoni. È una battuta o è possibile? Oddio, con questa faccenda degli animali che ha tirato fuori e ora tira fuori tra i cavalli anche i Formigoni mi sembra una cosa un poco molto zootecnica ma poco politica. Dentro di me dico che i Formigoni sotto certi aspetti con i suoi amici di Comunione e Liberazione lo vissi già in un raduno di Rimini suscitando qualche ritrosia di antichi miei amici e tutt'ora amici ripete un tentativo che Dossetti e gli altri che con lui si ritrovarono cioè lei la dira io stesso fece di garantire che un partito laico e democratico e popolare e nazionale come la democrazia cristiana avesse sempre viva la sorgiva di ispirazione cristiana. Ma insomma è di razza o no Formigoni? È di che razza? Se si riferisce sempre alla cosa animalesca io sono contrario a insistere da un punto di vista di uovo capace di organizzare capace di sentire cosa c'è nella vita sociale direi sì. Ma in una battuta se lei dovesse definire il fanfanismo cosa è stato? Per quello che conosco io l'incontro tra gli amici i primi amici di Dossetti di uomini coraggiosi che non hanno pensato se era conveniente o meno allo zoccolo di questo o quel cavallo far certi passi ma hanno sempre pensato che era un dovere per un cristiano impegnato in politica anche con sacrificio anche con pericoli di accantonamenti di dire il proprio pensiero e di cercare di far valere le valide proprie idee. Eh ma anche con tanto amore per il potere però. Ma per la verità lei si vede conosce poco bene la mia storia tutti dicono questo ecco rieccolo per pigliare il potere no rieccolo per pigliare nuove bastonate quindi non per andare al potere ma avere occasione di fare qualche servizio buono al proprio partito per il bene dell'Italia. Senta ma tra i grandi uomini politici che ha incontrato nella sua vita chi l'ha colpito di più? Per la sottigliezza dell'ingegno un cinese Deng Xiaoping. E fra gli occidentali? Per la il rispetto che aveva degli italiani e dell'Italia il generale Eisenhower. E il papa? Tra i papi quello che l'ha colpito di più? Quello che ricordo più e non posso mai dimenticare è più il dodicesimo quando in una circostanza occasionale osai avanzare la domanda se facevo bene o male a abbandonare la politica primi del 1946 dopo sei mesi di esperienza per tornare agli studi lui mi disse se considera questa sua domanda un acquisito morale le dico che quando un uomo si trova di fronte a un bivio e non sa cosa scegliere non sbaglia mai se sceglie la strada di maggior peso e di maggior fatica. E del papa attuale cosa pensa? Questa domanda lei l'ha ripetuta parecchie volte due volte fa mi pare al teologo Kug tentandolo tentandolo un po' malignamente a più riprese di farlo parlare sul papa e io dopo l'esperienza a cui assistetti un po' sorpreso non verso di lei ma verso l'insieme di queste conversazioni arrivo alla conclusione che un cristiano in primo luogo non può dimenticare e lodare e anche non cristiani lo hanno fatto per esempio Pertini il grande spirito di apostolato di papa Giovanni Paolo II senta tra poco ci sarà il congresso della DC qualcosa ha già detto ecco ma di che tipo di congresso si tratta secondo lei? in uno degli ultimi consigli nazionali dopo un discorso di demita richiamai l'attenzione dei miei amici di partito tutti gli iscritti alla DC sulla importanza eccezionale che in questa situazione vigilia di terza rivoluzione industriale di sconvolgimenti politici vari può avere anzi ha a mia vista a mio modo di vedere il congresso nazionale della democrazia cristiana ecco però il dibattito invece non sembra essere molto vivo lei mi offre un'occasione magnifica per dire per indirizzare pubblicamente a Cirico de Mita quello che qualche volta da allora gli ho ripetuto ha solo 20 giorni di tempo circa poco più 30 che gli restano gli utilizzi bene per animare questo dialogo che all'interno del partito bisogna vivificare per mettere tutti nello stato di coscienza che non si va là per preferire la persona Tizio o la persona Caio ma i programmi migliori per far sì che la democrazia cristiana rispondendo alle ripetute conferme di partito di maggioranza relativa datogli dagli italiani si è senta ma comunque presidente De Mita dice che per rinnovare bisogna sciogliere prima di tutto le correnti lei sostiene invece che non c'è più elaborazione politica perché non ci sono più le correnti mi sembra un contrasto di fondo no bisogna partire dalla definizione di corrente brevemente brevemente se è corrente e la mia esperienza me la fa vedere così è un nome dato a dialoghi ripetuti tra amici tra amici i quali cercano soluzioni ideali e pratiche a tanti problemi penso che un partito deve incoraggiarle se viceversa se viceversa è una combricola per arraffare qualche cosa ha ragione De Mita scioglieteli perché io la via l'ho già sciolta ecco però la sciolta però dice che andrebbe rifatta insomma cioè lei quattro anni fa per fare leggere De Mita contro Forlani che era il suo delfino appunto sciolse la sua corrente adesso dice invece che forse sono utili si sbaglia allora o si sbaglia adesso io continuo ad essere convinto che uomini di particolare affinità di carattere o di cultura o di impegno o di coscienza civile in un partito si incontrano più frequentemente di quanto fanno nelle assemblee del partito stesso per individuare bene le migliori proposte da fare al partito fanno bene insomma ma lei lo rifarebbe quello che ha fatto scegliendo De Mita contro Forlani o no? ma io non credo che si presenti l'occasione perché Forlani anche allora si sottrasse a ogni scelta ma Forlani chi gli era spiegato che lei sceglieva De Mita invece che lui? io glielo spiegai quando chiese Forlani che in casa mia li vedessi la mattina prima che si iniziasse il congresso per vedere cosa si doveva scegliere e si misero abbastanza d'accordo che conclusero se tu ci prendi a braccetto andiamo così al congresso tutti capiscono e siamo a posto fu ricoverato d'urgenza un mio valido collaboratore in un ospedale qui di Roma mentre stavamo parlando dovetti correre in clinica quando tornai all'Eur trovai che si erano divisi senza nemmeno dirmelo senta parliamo di Moro secondo lei a distanza di anni oggi pensa che poteva essere salvato o no? allora lo sperai penso che se i suoi assassini avessero forse avuto o si fossero procurati una pausa di riflessione qualche ulteriore tentativo per salvare Moro poteva essere fatto forse almeno lo lasci sperare un sincero suo amico forse con successo senta ma ci fu uno il partito nella democrazia cristiana qualcuno che impedì che si percorressero tutte le strade per salvare no no ci fu una larga discussione per vedere quale era la strada che avrebbe potuto consentire la salvezza di Moro senza aprire barratri alla stabilità del sistema senta ma è vero che lei minacciò Zaccagnini l'ascissione del partito su questo? no e non potevo minacciarla perché ogni volta che mi sono trovato di fronte al pericolo che i miei atteggiamenti potessero incrinare l'unità del partito ho abbandonato il campo 1959 il 259 gennaio in una settimana lasciai contemporaneamente la presidenza del consiglio il ministro degli esteri il ministero degli esteri e la segreteria del partito senta presidente un'ultima domanda all'inizio le ho chiesto di essere chiaro e schietto adesso che è finita che voto si dà? mi capita spesso di riflettere a questo tema e dico aspetto con fiducia che la misericordia di Dio nella valle di Giosa fatemi via un voto sufficiente per salvarmi dall'inferno grazie a tutti grazie a tutti